L'intero universo si regge sull'incastro perfetto di tutte le cose. Se un pezzo si rompe, e anche il più piccolo, l'intero universo si rompe. Questi sono Orox, feroci creature. Arriva l'uragano! Arriva l'uragano! Mi conviene imparare a sopravvivere. Io sono tuo padre e mi devo prendere cura di te, ok? Quando tutto è silenzio, vedo ciò che mi ha creato. Fezza! 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 Volare intorno in pezzettini invisibili. E capisco che sono anch'io un pezzettino di un grande, grandissimo universo. Tu sarai il re della grande vasca. Te lo prometto. Fra un milione di anni, quando i bambini andranno a scuola, sapranno che un tempo c'è stata un Ash Papi e che viveva con il suo papà nella grande vasca. Chi è l'uomo qui? Io sono l'uomo!